Dopo aver realizzato nel 2021 due maxisculture a Bari e Catania, l'artista Nico Vascellari torna a confrontarsi con il grande pubblico attraverso Il Mare a Milano, installazione collocata sulle rive della Darsena, che rappresenta un grande sole a due facce in lento movimento lungo un arco. Una stella di due metri e mezzo di diametro, realizzata in metallo e foglia d'oro, che insieme alle sedute del collettivo Codalunga invita i passanti a interpretare a modo proprio l'esperienza del momento, immaginando di essere su una spiaggia bagnata dalle acque dei navigli milanesi. È il contesto, più che altro il contesto pubblico, che fa sì che un'opera venga fruita in una maniera diversa, vissuta, probabilmente non contemplata, come succede invece quasi esclusivamente all'interno delle istituzioni. L'associazione Sole e Acqua tende a suggerire l'idea di guardare con una prospettiva diversa la città in cui si vive. Una città che ha accolto con entusiasmo il progetto commissionato dal marchio Glow, che è la prima tappa di un percorso di arte contemporanea nei luoghi di passaggio delle grandi città italiane. Sono giornate davvero straordinarie per quanto riguarda l'arte contemporanea e il rapporto tra arte e città, anche arte pubblica e città. È bellissimo avere le opere disseminate nella nostra città che guardano ad elementi significativi come i navigli milanesi. Un'opera che invita anche a ragionare su temi ambientali. Parliamo di un sole, siamo qui in Darsena con l'acqua. Il tema dell'ambiente è un tema molto caro a tutti noi, a noi in primis in VIT. Vogliamo creare un futuro migliore riducendo l'impatto del nostro business sulla salute un po' di tutti. L'installazione sarà esposta al pubblico fino al 22 settembre e verrà poi donata in vista di una collocazione permanente.